Buonasera amici, siamo in compagnia di... Cristian, Alessia, Manuel Macchiol... Chi è? Il presidente... Del consiglio! Boh, Mattarella? A Berlusconi! A Berlusconi! Il presidente del consiglio! Eeeh, non sono informato, non so... L'hanno appena eletto! Berlusconi! Ah, non, Meloni, 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 ok... Ma che cazzo dici, no? Bravo! Quando è scoppiata? La prima guerra mondiale! Nel 1914 su 1918! Quando è stata scoperta? L'America! 1492! Non me l'aspettavo, ragazzi, no? Siamo qui con... El Canchero! Cosa ne pensi della vittoria di Giorgia Meloni? Eeeh, allora... Per me potrò fare anche cose giuste, poi vedremo... Quando c'è stata... La prima guerra mondiale! Cos'è, 1914? 15? 14? 14! 14! Fino al... 19! 19! No, perché sono avanti come la Corea del Nord con l'orario, no? 18, 18! Quando è caduto l'impero romano? Eeeh... 476 d.C. Vediamo se sai questa! Vai! Quando è caduto il muro di Berlino? Allora, 1989... 1989... Eeeh, 9 novembre! Campione indiscusso! Presente dei nostri amici! Ciao a tutti, sono Davide! Chi è il presidente del consiglio? Credo... Batman! Quando è caduto... Il muro? Di Berlino! Perché non l'hai fatto ruttando? Eh, bisogna variare! Ogni tanto!